A partire dalle scuole vogliamo creare una realtà accogliente, una realtà che accolga tutti ai miei bracci perché è una società in cui meritiamo di essere tutti uguali, in cui meritiamo di avere tutti gli stessi diritti a partire dalle scuole perché noi siamo i giovani, siamo quei antitorbi che possono portare la vera differenza che possono stringere la mano a un amico di un'altra nazione perché siamo anche la generazione delle seconde generazioni delle seconde generazioni di immigrati dall'est Europa, dall'Africa, siamo tutti clandestini e crediamo tutti nell'uguaglianza perché alla fine qual è la differenza tra me e te? Il colore? No, perché siamo tutti uguali, tutti siamo umani fianco a fianco, Marcellona per l'umanità, perché l'umanità è il valore in cui dobbiamo creare ogni giorno e luttare in tutte le città, in tutte le strade perché è quel valore che ci darà la salvezza da tutte le destre che stanno cercando di spopolare in Europa.